Sostenere e promuovere i piccoli comuni, veri e propri gioielli del territorio campano. L'obiettivo dell'evento, aperto al pubblico, facciamo rete in programma sabato mattina. Presso la sala del Museo Civico di Sumonte si incontreranno i sindaci e i rappresentanti della rete dei borghi più belli d'Italia della Campania e l'assessore regionale al turismo Felice Casucci. Nella nostra regione sono ben 13 borghi più suggestivi, selezionati e certificati, quale espressione della bellezza e del fascino storico, culturale e tradizionale della nostra terra. Alboria, Trani, Castellabate, Conca dei Marini, Frigento, Furore, Gesualdo, Montesarchio, Monteverde, Nusco, Savignano Irpino, Sumonte, Zungoli. All'incontro porteranno il proprio contributo il coordinatore dei borghi della Campania, Antonio Vella, sindaco di Monteverde e la direttrice di Fondazione Sistema Irpini a Carmelina d'Amore. Il punto focale dell'incontro sarà la creazione di una rete tra i borghi della Campania, un'iniziativa che mira a favorire lo sviluppo sostenibile, la promozione turistica e la valorizzazione delle tradizioni locali. L'incontro offrirà una piattaforma per discutere strategie condivise e progetti collaborativi con l'obiettivo di trasformare i borghi in mete turistiche di eccellenza, in grado di attrarre visitatori e investimenti. L'incontro di sabato rappresenta un'opportunità unica per mettere in rete le risorse e le bellezze dei nostri borghi, dichiara il sindaco di Sumonte che ospiterà l'incontro, Ivo Capone.